Grazie per l'invito. Allora ci rivediamo a bocce ferme, come si suol dire, una battaglia combattuta fino all'ultimo con un risultato che ha colpito soprattutto per questa differenza. È vero, sono mondi diversi, amministrativa, un conto europeo e un altro, ma si votava lo stesso giorno, due schede, lo stesso elettore nella stessa cabina. Insomma c'era questo dato del centro-destra eclatante alle europee e poi il giorno dopo, scrutinio delle amministrative, si scopre un dato ribaltato. Tommasini, qualcuno potrebbe dire che i conti non tornano? Ma innanzitutto parto dal DNA che mi ha sempre contraddistinto, da sportivo, quindi si ammette la sconfitta e si riparte prontamente. Noi eravamo in diretta, devo dire che lei lo ha fatto cogliendoci tutti di sorpresa, questo è vero, perché era ancora in atto lo spoglio, c'erano proiezioni, c'erano discorsi, ormai si ragionava in quel senso, ma lei ha stupito a tutti perché ha detto ok, ha vinto bianchiere, complimenti. No, avendo dato il massimo non ho ramarico, quindi noi abbiamo dato il massimo, un gruppo ha corso, certo alcuni dati, diciamo il risultato un po' di Fratelli d'Italia, il risultato di Forza Italia era un po' al di sotto delle attese, la Lega io penso anche, diciamo analizzando 20 miglia, indipendentemente da europee, giustamente non è, non puoi proiettare matematicamente quello che succede all'europeo a un livello locale che è completamente diverso, la Lega ha fatto il suo, un plauso lo faccio, ma come l'ho fatto anche pubblicamente al gruppo dei Centro, la Lista, perché comunque da persone che non hanno mai fatto politica hanno espresso comunque un loro valore, si sono contraddistinti, certo che tante anime si sono riversate sulle civiche anche del Sindaco Bianchieri, questo ci fa, come dire, prontamente ripartire, infatti noi ripartiremo, ci siamo già visti con la Lista e poi parleremo anche con tutto il gruppo dei Centro per ripartire da noi, significa un gruppo moderato riformista, un nuovo circolo culturale che parta soprattutto da questo lato, dalle proposte e dalle cose che noi avevamo messo nel programma, che vorremmo proporre, quindi faremo dei convegni, avremo modo di fare iniziative per la città e stare vicino al territorio, infatti un po' i cardini di questo nuovo circolo culturale che andremo a breve a costruire, insieme soprattutto alle persone che hanno collaborato nella squadra, che a questo punto faranno un passo avanti come squadra, perché io credo molto nella squadra e vorrei che oggi si esprimisse ancora di più, scordandoci un attimo l'aspetto della campagna elettorale, sarà appunto lo sviluppo, il merito, perché crediamo fortemente nella meritocrazia e nella competenza e il territorio, la vicinanza ai cittadini, che troppo spesso sono stati abbandonati, vedremo cosa farà questa amministrazione, però io credo in questi cardini. Ecco, da lì già capiamo che insomma la sua non è stata una candidatura flash, se va bene faccio il sindaco, altrimenti me ne vado a spartare la porta, ma ci sono, rimango, vado in consiglio, faccio posizione. Beh, 10.500 preferenze comunque tra tutta la coalizione merita un'attenzione, anche per rispetto dal civico dal quale sono nato e al quale appartengo e nel rispetto di tutta la squadra, penso che ci sia modo di fare un'opposizione, proprio ieri sera ci siamo visti con gli eletti di questa coalizione, siamo in otto, abbiamo tutti delle competenze e tutti i vari esperienze, quindi le porteremo lì e faremo una posizione, vigileremo sull'attività di questa amministrazione. C'è già qualche cosa che avete analizzato, che siete pronti, come dire, a indicare, anche perché fosse un'altra situazione con un sindaco nuovo, uno dice, beh, bisogna aspettare, il sindaco è stato rieretto, quindi insomma più o meno i passaggi amministrativi, Biancheri dovrà alcuni completarli, portare avanti il suo, sarà un discorso di continuità, quindi immagino che ci possa già essere qualcosa da parte vostra. Ma analizzavo innanzitutto la composizione della Giunta, alcune riconferme, altre novità, avrei preferito vedere ad esempio, ma è una questione di curriculum, un Alessandro Sindonia da Presidenza del Consiglio Comunale, piuttosto che la riconferma del grande, piuttosto vedo Don Zella all'urbanistica, è un avvocato, sicuramente stimato, avrei visto in una posizione così delicata una professionalità di carattere tecnico e poi comunque si porta dietro anche, e spero vada tutto bene, un'inchiesta pesante su Riviera Acqua. Dall'altra parte vedo San Remativa che prende una posizione sull'ambiente, un altro tema delicatissimo dove comunque anche lo stesso Amai Energia dice che il porta a porta andrà superato, andrà rimodellato, noi avevamo delle idee molto chiare, le abbiamo, le idee molto chiare, avrei piacere di un confronto serio, avrei avuto piacere di vedere in questa posizione un assessore un po' più di peso, ancorché non conosco questa signora della Sanremo Ativa, però non la conosco e non ne vedo lo spessore tecnico, poi spero di potermi sbagliare e che sia veramente un assessore innovativo, in questo modo non lo vedo. Altri temi che mi hanno stupito è questo tentativo di andare a comprare un pezzo della ciclabile per 2 milioni di euro dalla Maia Energie, quando anche nei più elementali libri di management si insegna che un asset turistico si compra da qualcuno che lo può pagare e mantenere e eventualmente la gestione si dà fuori, oggi te a Centra è una Maia Energie che ha un astrutto completamente diverso, un asset turistico facendolo di fatto poi gestire da una società che dovrebbe fare ambiente rifiuti, mi sembrano quelle scelte veramente scellerate che mi ricordano quando dall'RT si compravano anche le edicole, quindi secondo me è una pochezza manageriale che comunque traspare in alcuni personaggi che gravitano intorno a questa amministrazione. Quindi su questi temi sicuramente sarete pronti a dare battaglia in Consiglio Comunale? Assolutamente sì. Sì, poi attendiamo anche per una questione, dato che il nostro cardine sarà lo sviluppo, attendiamo di capire quale sarà la decisione del Tare il 19 giugno sui ricorsi sul porto perché siamo per lo sviluppo, di conseguenza se sono stati fatti degli errori sulle procedure e i ricorsi andassero in porto noi potremmo andare a vedere che vengono vanificati dei tentativi imprenditoriali di portare sviluppo alla città e questo sarebbe un problema, ma la problematica nasce a monte da eventuali sbagli amministrativi, attendiamo che il Tribunale diano i loro esiti. Senti, in campagna elettorale c'è stata anche la discussione sul discorso di rifiuti per la sua precedente appartenenza a Idroedile, lei aveva giustamente lasciato l'incarico ancora prima della candidatura, ma è una cosa che mantiene a questo punto, lei sarà consigliata con una diopposizione senza più occuparsi di questo punto. Assolutamente sì, questa è stata una decisione che io ho presa indipendentemente dall'avventura politica, lo dissi quindi lo confermo, io sono fuori dalla Idroedile che è stata ben sfruttata con abbastanza demagogia da questa amministrazione per fare campagna elettorale contro. Spero che loro colgano nel mio programma, c'è molta competenza su questo tema, spero che la possano cogliere perché la raccolta dei rifiuti, soprattutto a livello locale, ha di fatto alla sua base dei grandi errori organizzativi, se ne devono rendere conto, se ne stanno rendendo conto, ma non è comprando due isole ecologiche che te risolvi un sistema. La città, a nostro parere, e io penso che se facciamo la somma di tutti coloro che non hanno votato Bianchieri fa il 47%, quindi una città che è divisa, spaccata, uno su due pensa che la città sia sporca, gli altri secondo me in maniera demagogica pensano che forse si fanno digerire che così vada bene, ma così non va bene, quindi la raccolta differenziata va cambiata, spero che ci mettono delle persone competenti in questo settore per farlo. Io vorrei tornare un attimo sul discorso politico, lei ha fatto accenno al risultato e quello in effetti lo dicono i numeri, non è una polemica, è un'analisi di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, il Fratelli d'Italia per esempio, fra europee e amministrative, ha dimezzato il voto, ma lei in qualche modo si è sentito tradito da qualche dubbio? Ma tradimento è una parola un po' forte, io direi che in questo progetto molto innovativo secondo me ha fatto paura al cambiamento, io penso di essere veramente portatore di un grande cambiamento, come nel DNA che porto, nella professione che ho svolto, nel mio curriculum, è molto diverso una persona che si qualifica come io, si qualifica potenzialmente ad amministrare una città o amministrare le partecipate in un modo veramente diverso di concepire la politica, questo penso che in alcuni ambienti, non ho mai fatto e non mi connoto come, non ho una connotazione politica e penso che questo diciamo in una città o in un mondo che comunque tende a conservare piccoli interessi o piccoli giardinetti o piccole sfere di realtà, piccole sfere di libertà, penso che questo sia stato un segnale di discontinuità che la gente ancora non ha capito, ma lì si arriverà, perché le risorse da livello centrale mancheranno sempre di più, perché la Casinò ha bisogno di un serio rilancio e adesso io attendo di vedere chi metteranno a capo della Casinò, anche se alla fine poi dovranno pagare delle persone con questa sorta di manuale Cencelli che alla fine metterà persone incompetenti o competenti per le loro cose ma sicuramente non abili a guidare una casa da gioco e ci troveremo a vivacchiare per qualche altro anno. Lei dice per ripagare in buona sostanza chi ha sostenuto? Eh però se non si chiarisce prima che alla fine vale le meritocrazie e le competenze e si applica manuale Cencelli alla fine poi ci troveremo, secondo me, ma ripeto spero di sbagliarmi per il bene di Sanremo, ci troveremo di nuovo semmai alla Casinò le partecipate delle persone che alla fine non ne hanno le competenze, come quando sento che vogliono scorporare l'elettrico dall'idrico ai rifiuti invece di centralizzare e creare una società da 150 milioni di Euro che competerebbe sul mercato, sento fare degli scorpori e delle micro società per avere cosa puoi? Un amministratore in più e un po' di CDA da piazzare. Ecco questo piccolo cabottaggio secondo me per una città di Sanremo io la vedevo diversa, pian piano io cercherò sempre di portare questo mio essere imprenditoriale, questo mio modo di amministrare, pian piano penso che la cittadinanza alla fine lo capirà. Ecco ma allora Sergio Tomasini sul fronte politico pur tra virgolette nel senso sempre con la sua visione personale e manageriale, resterà il consiglio, l'opposizione va bene, ma poi ci sono altri eventuali pensieri o cose, per carità è sicuramente prematuro parlare oggi già di regionali o quant'altro, ma lei eventualmente sarebbe aperto? Ma sai alla fine è sempre una squadra che lavora, che apprezza e poi alla fine ti cerca, quindi oggi io siedo in consiglio in opposizione, lavorerò a stretto contatto con coloro che hanno con me, siedono nei banchi dell'opposizione, quindi penso alle quattro persone della Lega, a Forza Italia con Simone Baggioli, a Luca Lombardi con Fratelli d'Italia e poi mi piace nominarlo, la Patrizia Badino, la Federica Cozza, Andrea Artioli e Daniele Ventimiglia, queste sono le persone che siedono nei banchi dell'opposizione con il quale lavoreremo e proprio per il bene di Sanremo cercheremo di fare opposizione, da una parte costruttiva quando ce ne sono delle cose buone, migliorabili, perfettibili, quando ci saranno delle cose che non ci vanno bene lo diremo a chiare lettere. Disposti quindi anche a votare sì nel caso? Se è una cosa per Sanremo assolutamente sì, non siamo il no contro, quello c'era il 5 Stelle che lo faceva, spero che non sia adesso Sanremo Attiva che è un po' figlia secondo me della stessa demagogia, ma noi non siamo il no contro, noi valutiamo, studiamo le pratiche, è nel mio DNA e penso che lo sia anche con i miei colleghi in opposizione. Beh Tomatini a questo punto, che dire, buon lavoro per quello che riguarda il Consiglio Comunale ma anche per la sua attività che prosegue, i droghi di la parte perché ci prosegue sull'estero, sì sì, prosegue con Confindustria, abbiamo diverse attività quindi non ci sono problemi, adesso mi concentrerò a fare una buona posizione, è una prima volta per me e quindi avrò tanto da imparare e sarà una bella esperienza. Ecco, Bianchieri anche arriva dall'esperienza di imprenditore, però voglio dire qualcosina poi ci ha dovuto mettere di politica lui stesso parlando della Giunta, anche di alcuni nomi che le citava prima, dice beh mi sono stati indicati dai partiti, dagli alleati, sono quei conti che poi però prima o dopo bisogna fare, no? Sì bisogna, però se le linee guida le fissi prima dove te parli veramente di meritocrazia e competenza, alla fine poi le persone seguono, quindi davanti a un buon curriculum, è una buona, è un fattore meritocratico, poi anche i politici andrebbero a seguire. Io sono nato civico, fossi partito dopo penso che i partiti tradizionali non avrebbero mai scelto un curriculum come il mio. E poi c'è una grande differenza che ho imparato sul campo, vent'anni girando tra l'estero e su altre realtà nazionali, un conto è fare l'imprenditore, un conto è fare il manager, sono due cose veramente distinte. In che senso? Nel senso che poi te puoi trovare un imprenditore e anche manager, non è detto il contrario e molte volte l'imprenditore si avvale di manager importanti, di manager meritocratici e competenti. In questo caso ha detto bene lei, Bianchiere è un imprenditore, allora vediamo se nella passata amministrazione secondo me non è andata così, vediamo se questa volta si avverrà veramente, soprattutto nelle partecipate di bravi manager. E allora attendiamo e vedremo, grazie ancora a Sergio Tomasini per essere stato qui con noi, grazie al pubblico. Arrivederci e una buona sera.